Siamo con il capitano della nobile contrada dell'Aquila Lorenzini, la contrada come sta vivendo questo secondo paglio dell'anno. Bene, bene, come sempre, c'è sempre una grande attesa, una grande euforia, speriamo di poter ripagare tutto questo. Per quanto riguarda il lotto, la composizione come contrada è preferita? Un lotto più livellato o un lotto alto? Questo è da vedere un attimino un po', vorrei evitare un lotto come quello di luglio, come abbiamo provato a fare anche a luglio. Infine una domanda doverosa su quello che potrebbe essere senza il cavallo nella stalla ancora la possibile monta della contrada. Difficile, senza sapere il cavallo ci sono mille scenari che possono aprirsi in tarda mattinata, quindi è veramente da vedere. Grazie, tra poco una nuova intervista qui da Piazza del Campo.